Grazie a tutti Ho sentito una fitta dietro il ginocchio che non avevo mai sentito prima Io sono accasciato a terra, si avvicina Lorenzo Pellegrini e gli faccio... Mi sono spaccato tutto Uno degli infortuni più gravi che può capitare a un calciatore d'élite Oggi c'è una buona notizia mamma Ho corso Fra me e me mi dicevo ma chi me lo fa fare? Ma perché? Basta, basta Proviamo a farci vedere con Immobile che ha andato sulla traccia apposta Ecco per bene per Immobile, posizione regolare Ha tenuto da porte, c'è chiesa una rada di rigore Chiesa! 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 La chiesa di nuovo al centro del villaggio 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti